Il trasporto ferroviario, strategie e nuove opportunità. Se ne parla a Lanciano in un convegno nazionale organizzato da Sangritana. Il Presidente della Sangritana, Pasquale Di Nardo, perché questo convegno? Un convegno organizzato da noi, così per iniziare a discutere di quelle che possono essere nuove opportunità su un nuovo mezzo di trasporto. Insieme ad Astra, che è l'associazione datoriale delle società che si occupano di trasporto, perché Astra insieme a noi ha potuto meglio raccogliere le possibili adesioni anche di importanti imprese ferroviarie che sono italiane, ma anche qualche rappresentanza internazionale, essendoci oggi per esempio parlando di ferrovie turistiche, in termini di opportunità quindi economiche sul fronte turistico e di ferrovie turistiche, con Plingboker che qualche minuto fa ci spiegava che probabilmente questo territorio può essere assimilabile a quello Svizzero, dove ci sono ferrovie turistiche private che fanno non solo pill per quella regione, ma anche in termini economici il risultato è utile. Un'opportunità, dicevo, quella di confrontarsi con le altre imprese ferroviarie, ma con gli enti locali, con il mondo della politica, cioè di chi decide le regole per le imprese ferroviarie, in un momento particolarissimo dove i servizi dovrebbero essere, così come il Governo annuncia o ha annunciato in queste ultime settimane, anche sul trasporto in genti tagli. Un'opportunità in più quindi per ridisegnare quello che può essere uno scenario sul quale questa regione, questa azienda e in questo particolare territorio certamente non può chiamarsi fuori. Lo sviluppo del trasporto e anche lo sviluppo dell'economia, ma anche di chance di vita completamente diverse da quelle vissute fino ad oggi, con la possibilità di eliminazione di CO2, ma anche di numerosi mezzi che intasano le nostre strade e autostrade. Un'opportunità di riflessione. Ad apertura dei lavori si parla di turismo. Lei sta puntando sul rilancio dei treni turistici della Sangritana. Dal treno della Valle al treno dei Parchi, di questo si parla? Quello del treno dei Parchi è un progetto che inizia a prendere forma dal giorno in cui, quest'estate, abbiamo preso in gestione la seggiovia di Campo di Giove. Seggiovia che è prospicente una fermata ferroviaria, quella che collega Sulmona a Carpinone a Isernia, che dovrebbe essere, da quello che si dice, comunque è classificata secondaria e probabilmente dismessa all'esercizio. Ci siamo candidati, magari insieme a Trenitalia, piuttosto che da soli, ad esercitare su quel territorio e su quell'infrastruttura, a continuare l'esercizio. Per poter, sia d'estate che d'inverno, per la sua particolarità geoposizione, ed essendo all'interno del Parco Nazionale della Maiella, e quindi per le suggestive valli e vette, un'opportunità per trasportare su quell'infrastruttura d'estate e d'inverno sciatori piuttosto che alpinisti. Credo che questo possa aiutare, non solo a far conoscere il nostro territorio, non solo a migliorare il PIL per il nostro territorio e per la nostra regione, ma anche a creare delle opportunità in più di crescita per tutto l'intero mondo produttivo.